La nostra regione è interessata da un flusso di correnti umide occidentali che determina condizioni di nuvolostà irregolare senza precipitazioni associate. Una situazione che persisterà anche nella giornata di domani, sabato 22 maggio, dopodiché avremo un cambiamento per correnti meridionali a partire da domenica. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 22 maggio, cielo irregolarmente nuvoloso per nubi alte stratificate ma senza precipitazioni associate, temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli da ovest e mare quasi calmo poco mosso. Domenica 23 maggio, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in lieve aumento soprattutto nei valori massimi con valori che si porteranno al di sopra dei 25-26 gradi centigradi, venti deboli meridionali e mare quasi calmo o poco mosso. Per i primi giorni della prossima settimana avremo un ulteriore rinforzo dell'alta pressione di natura subtropicale per cui ci attendiamo un ulteriore e consistente aumento delle temperature ovunque, soprattutto nelle aree interne dove si potrebbero superare i 30 gradi centigradi. Dunque avremo una condizione meteoclimatica dal sapore pienamente estive, come nel mese di luglio o di agosto. Una situazione che durerà anche nella giornata di martedì, sebbene avremo un aumento della nuvolosità che potrebbe dar luogo a qualche isolata precipitazione nel corso del pomeriggio sera. A partire da mercoledì le temperature diminuiranno riportandosi su valori in linea con la media del periodo. Per maggiori dettagli invito come sempre delle spettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.